I prossimi eventi di Calabria Sona. Il 21 giugno in Calabria la festa della musica Sona in treno. Da Crotone e da Diamante verso Reggio Calabria dalle 13 e 30, un grande evento che coinvolgerà tutte le stazioni calabresi per concludersi nella stazione centrale di Reggio Calabria. 23 giugno Ciccio Nucera a Soveria Mannelli Catanzaro. 23 giugno Valentina Balistreri e compagnia Beddi a Alcara Lifusi Messina. 23 giugno Francesco Giannini Monasterace Reggio Calabria. Seguici, in arrivo tanti altri eventi targati Calabria Sona.